Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo a cura di Meteograd. Previsioni meteo per i giorni 15 e 16 dicembre 2021. Situazione e evoluzione generale. Il vasto campo di alta pressione presente sull'Europa centro-occidentale ed in area mediterranea tende ulteriormente a rinforzarsi garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato salvo la presenza di estese formazioni nebbiose nelle aree continentali. Il flusso perturbato atlantico si trova quindi relegato ad altissime latitudini, investendo soltanto la penisola scandinava. Anche sulla nostra penisola le condizioni meteo trascorreranno all'insegna della stabilità con nebbie persistenti al nord. Tuttavia qualche addensamento sarà possibile al centro-sud ed in area adriatica, dovuto all'infiltrazione di aria più fresca e umida di origine balcanica. Questa situazione rimarrà immutata fino al weekend, quando lo spostamento dell'alta pressione verso nord attiverà un flusso freddo da nord-est con peggioramento al centro-sud versante adriatico. Previsioni meteo per mercoledì 15 dicembre 2021. Nord. Sereno o poco nuvoloso sulle zone collinarie e montane, mentre in pianura i cieli saranno per lo più coperti a causa della presenza di diffuse nebbie che persisteranno per l'intera giornata. Qualche schiarita anche lungo le coste adriatiche, con locali nebbie soltanto al mattino. Centro. Condizioni di tempo stabile e soleggiato salvo il passaggio di qualche annuvolamento lungo le zone adriatiche, più compatto durante le ore pomeridiane. Possibile formazione di qualche banco di nebbia nelle pianure interne del centro nord. Sud e isole. Cieli poco nuvolosi con nubi in parziale aumento nel corso delle ore centrali della giornata sull'area basso adriatica e sul nord della Sicilia, dove non è del tutto esclusa la possibilità di deboli piovaschi a ridosso dei rilievi. Temperature massime nel complesso stazionari e con valori molto bassi sulla Valpadana centrale in occasione del persistere delle nebbie anche nella parte centrale della giornata. Minime anch'esse stazionarie con valori al di sotto dello zero nelle pianure del nord, dove si avranno gelate. Ventilazione generalmente debole, o al più moderata dai quadranti settentrionali con qualche rinforzo sui settori adriatici, sui settori ionici e sulla Sicilia. Mari da poco mossi sui settori settentrionali, fino a mossi altrove. Localmente molto mossi in area ionica. Previsioni meteo per giovedì 16 dicembre 2021. Nord. Tempo stabile e soleggiato sulle zone collinarie e montane, mentre in pianura i cieli si manterranno per lo più coperti a causa della presenza di estese nebbie che persisteranno per l'intera giornata, in particolare nelle zone più interne. Gelate nella Valpadana centrale per l'intera giornata con possibile galaverna. Centro. Cieli sereni o poco nuvolosi lungo la fascia tirrenica, mentre locali annuvolamenti, a tratti compatti, interesseranno il versante adriatico per deboli infiltrazioni umide da nord. Qualche banco di nebbia sarà possibile nelle vallate interne del centro nord. Sud e isole. Cieli parzialmente nuvolosi con addensamenti più compatti nell'entroterra adriatico e sulla Sicilia settentrionale. Addensamenti dovuti alla presenza di un debole flusso umido dai quadranti settentrionali, che localmente potrebbe portare anche alla formazione di sporadici piovaschi. Temperature massime nel complesso stazionari e con valori bassi sulla Valpadana centrale. in occasione del persistere delle nebbie anche nella parte centrale della giornata. Minime anch'esse stazionarie con valori al di sotto dello zero nelle pianure del nord, e localmente nelle pianure interne del centro nord, dove si avranno gelate. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali con locali rinforzi in area adriatica e ionica. Mari da poco mossi al mattino, fino a mossi durante il pomeriggio. Localmente molto mossi in area ionica. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale per ricevere ogni giorno il bollettino meteo aggiornato. Fai clic anche sulla campanellina per ricevere le notifiche istantanee riguardo nuovi bollettini o contenuti.